Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video, attraverso il quale vi informeremo sugli scoppi di temporali e forti piogge in Italia domani sera, venerdì 12 maggio 2023, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenere noi con ammirazione per questo video e iscriviti anche al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche per essere il primo a guardare i nostri nuovi video, poiché le statistiche dicono che oltre il 90% di voi guarda costantemente i nostri video ma non si iscrive al canale, quindi iscrivetevi per ricevere il nuovo ed esclusivo, quindi per domani, venerdì, previsto ritorno di pioggia e temporali nel periodo serale verso tutte le regioni del centro e del nord, le regioni interessate sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo settentrionale e, infine, buona salute!